Buongiorno, ben trovati appuntamento di venerdì 11 gennaio 2019 con Mattino 6, la nostra consueta la segna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, come sempre apriamo con le prime pagine dei giornali abruzzesi il centro, l'edizione di Pescara, vediamo il titolo principale, eccolo qui inquadrato, riguarda le aree di risulta guardie armate nell'area di risulta, Pescara, parcheggi più sicuri nelle ore notturne dal prossimo lunedì poi vedremo anche un servizio e poi donati gli organi di Conrad, il padre salverà altre persone il giovane che era precipitato nella notte di Capodanno dal secondo piano di una palazzina a Città Sant'Angelo dopo nove giorni di coma è morto, è deceduto all'ospedale di Pescara e c'è stata la donazione degli organi vediamo le altre notizie, sempre dal pescarese Montesilvano muore in strada a 48 anni per un malore accaduto nella serata di ieri a Pescara attività storiche il comune ne premia 30 attività che hanno raggiunto i 35 anni proprio di attività commerciali in particolare poi il maltempo che è tornato a colpire nelle ultime ore la nostra regione, soprattutto le aree interne scuole chiuse per neve in provincia di Pescara vediamo altre notizie, ci spostiamo all'Aquila, anziana muore, ipotesi mucca pazza il caso in ospedale è eseguita l'autopsia, gli esiti saranno resi noti tra alcuni mesi vediamo altri due titoli, il Corecom Abruzzo ha presentato i risultati sulla lotta al bullismo cresce il bullismo su internet, ecco come difendersi il decalogo del Corecom Abruzzo e poi bando inail per la nostra regione, sicurezza sul posto di lavoro, 10 milioni alle piccole imprese andiamo a vedere la prossima pagina del centro che è quella di Chieti, Lanciano Vasto strade ghiacciate, chiuse le scuole, ne parlavamo qualche istante fa stop a Chieti e provincia, pullman di traverso senza gomme termiche morta nello schianto, due borse di studio per ricordare Emiliana la studentessa di San Salvo deceduta a Milano vediamo le altre notizie, a Chieti in via Penne scatta il rischio, esalazioni tra le case e poi Lanciano la cronaca giudiziaria, palpeggia la dipendente condannato vediamo poi la politica, liste si tratta, entrano Scalera e Marzoli le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dunque le elezioni regionali che ricordiamo si terranno nella nostra regione il prossimo 10 febbraio dunque tra meno di un mese siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo Prati di Tivo, salta la stagione sciistica la Siget ritira l'offerta per gestire gli impianti difficile al momento una alternativa in alto troviamo una notizia che riguarda proprio le elezioni regionali di cui parlavamo poco fa cattolici e popolari dicono sì all'alleanza con Legnini ieri sono state presentate le liste e sciolte le ultime riserve parliamo anche di calcio dalla prima pagina del centro edizione di Teramo perché ieri è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il nuovo socio del Teramo, socio del presidente Campitelli si tratta di Nicola Di Matteo che vedete nella foto che dice il Teramo tornerà in serie B nel giro di tre anni restiamo a Teramo, scuole chiuse per neve in città nell'entroterra e poi Tortoreto scatta l'inchiesta sui contributi del comune andiamo più in basso, Pineto l'episodio di qualche anno fa, ricorderete il gasdotto esploso il processo si ferma subito vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Vezzano, Sulmona sempre del centro, il titolo principale riguarda quello che è accaduto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila l'anziana muore, ipotesi mucca pazza eseguita l'autopsia, come detto abbiamo visto anche prima il titolo tra alcuni mesi si conoscerà l'esito proprio dell'autopsia i risultati potranno fare chiarezza su questo decesso dall'Aquila ci spostiamo ad Avezzano pane per l'Africa, suore ruandesi a lezione dallo chef franciosi torniamo all'Aquila muore dopo un'odissea sanitaria, medici nei guai sempre l'Aquila, tributi arretrati, stangata, avviata sotto le feste e poi ci spostiamo più in basso torniamo nella Marsica, ma questa volta Celano assediato al bar, parte il processo per sette imputati andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero parliamo della tragedia di Rigopiano Feniello multato e bufera Rigopiano, Fiori dove era morto il figlio il papà non pagherò, voglio un processo l'avvocato non è vero che ha violato i sigilli Marsilio avvia una raccolta di fondi vediamo altri titoli dalla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero Teramo, case terremotate, pioggia di ricorsi al Tar e poi livelli sanitari, la regione raggiunge l'ottavo posto vediamo altri titoli toccatine e baci, siamo a Lanciano, alla dipendente 20 mesi di carcere e poi Giulianova, comune, ci vuole il permesso per il caffè stretta nelle autorizzazioni per il personale vediamo poi in basso Chietino, scuole chiuse per le nevicate in diversi comuni è tornato il freddo nella nostra regione la neve nelle aree interne ma da domani le temperature sono previste in aumento, in alto vediamo anche quello che accade a Prati di Tivo ancora polemiche e problemi salta la gestione degli impianti stagione scistica ora a rischio e poi verso il voto ritroviamo anche sul messaggero la notizia che avevamo letto qualche istante fa dal centro anche una lista di cattolici per sostenere Giovanni Legnini e poi il calcio parliamo del Pescara in questo caso di mercato soprattutto perché l'Empoli vuole Mancuso Gol giocatore però di proprietà della Juventus improbabile che il Pescara si privi del suo bomber Teramo Di Matteo nuovo amministratore delegato nei prossimi giorni verrà ratificata la nuova carica al dirigente che ieri è stato presentato e che affiancherà il presidente della società bianco-rossa Luciano Campitelli siamo alla prima pagina del quotidiano la città scuole chiuse a causa della neve i fiocchi di ieri sera convincono i sindaci a non rischiare previsioni in miglioramento lo dicevamo per oggi ma anche e soprattutto per dalla giornata di domani vediamo ancora altre notizie lutto bianco-rosso oggi al Duomo l'addio al presidentissimo Francesco Lombardi e poi il ricordo di Bruno Tarquini magistrato di altri tempi e poi parliamo di trasporti treni e aerei Labruzzo punta in alto a Milano in tre ore e mezza il nuovo gate per l'aeroporto di Pescara a proposito di questo argomento poi vedremo anche un servizio lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi passiamo all'edicola nazionale passiamo e partiamo per meglio dire dal Corriere della Sera si parla della lite sulla TAV l'asse del nord contro i 5 stelle Salvini vuole un referendum sì delle regioni slittano reddito di cittadinanza e pensioni grillo pro vaccini e poi vedete la foto del presidente americano Trump al confine tra fucili e minacce con il Messico muro medievale ma funziona e poi vediamo un altro titolo che riguarda la RAI il conduttore di Sanremo Baglioni e i migranti RAI 1 lo attacca il solito comizio vediamo anche Repubblica la politica in primo piano Lega 5 stelle caos totale slitta il via libera a reddito e pensioni e poi Merkel Tsipras sorrisi da ex nemici ecco com'è cambiata l'Europa si stringono la mano i presidenti primi ministri di Germania e Grecia vediamo anche la prima pagina del messaggero nazionale referendum Tav sfida Lega 5 stelle e poi il presidente americano al confine con il messico dice sul muro non mollo e poi trampe i migranti stato di emergenza una notizia poi che arriva da Roma far west nella capitale ucciso davanti all'asilo scontro sulla raggi vediamo il manifesto migranti vertici a Roma con l'Unione Europea e poi la vendetta lombarda vedete il titolo con la foto del ministro degli interni Matteo Salvini siamo al tempo Sciacalli all'asilo quotidiano romano ovviamente mette in primo piano l'omicidio delle ultime ore accaduto a Roma regolamento di Conti alla Magliana in pieno giorno muore pregiudicato il PD è colpa di Raggi e Salvini scontro fra sindaco di Roma e ministro vediamo anche il fatto quotidiano chi ha paura di Conte questo è il titolo di taglio alto in prima pagina Salvini soffre il premier scende nei sontaggi e si butta sul TAV e le trivelle e poi Unione Europea colpo di mano dei socialisti per fermare chi vuol cambiare vediamo il mattino di Napoli Lega e Movimento 5 Stelle litigano su tutto l'Europa apre sui migranti ma slittano i decreti sul reddito di cittadinanza e pensioni e poi il quotidiano napoletano ovviamente parla di questioni soprattutto partenopee a Napoli il comune sfratta loro di Scampia Mario resto qui palestra di Maddaloni e i canoni non versati io salvo i ragazzi dalla camorra e non pago una notizia che riguarda anche lo sport in chiave napoletana Alan Barella il grande intrigo che scuote il mercato azzurro del Napoli siamo al quotidiano della CEI a venire bontà senza tassa il governo conferma il dietro front sull'Ires ai non profit trovate le coperture presto il decreto e poi la politica internazionale il Congo ha un nuovo leader la chiesa parla di Brogli e poi manifesto proscienza Grillo spiazza i Novax anche Renzi firma la protesta tra i 5 stelle contro il fondatore vediamo anche il sole 24 ore quotidiano economico risparmio pir nel caos emissioni bloccate questo è il titolo di spalla e poi fallimentare la riforma dopo 77 anni il nuovo codice si punta ad anticipare le crisi estesa la platea delle SRL obbligate a nominare sindaci vediamo anche la stampa di Torino TAV Salvini sfida di Maio lega in piazza Torino e via libera al referendum e poi vedete in basso Bisi o migranti Stocco ombagnoni bagarre politica a Sanremo e anche in Rai vediamo il quotidiano la verità perché il governo non cadrà le liti lega 5 stelle accendono vane speranze e poi vedete il titolo più in basso che riguarda il Vaticano aveva ragione Viganò McCarrick sarà spretato questo è il titolo che riguarda proprio il Vaticano le polemiche degli ultimi tempi degli ultimi anni che stanno investendo proprio la Chiesa e poi giornalisti europei pagati per infangare Putin le accuse di Anonymous già riscontrate in Inghilterra 2 milioni di dollari a decine di persone scrive il quotidiano la verità diretto da Maurizio Belpietro il secolo.it la rappresaglia vedete il titolo scontro totale tra Lega e 5 Stelle dopo il caso Sewatch Salvini attacca apertamente tutti i nervi scoperti dei grillini dalla Tav alla Raggi e dice noi siamo il primo partito abbiamo terminato l'edicola nazionale con i titoli dei quotidiani oggi in edicola e siamo di nuovo alla cronaca dalla nostra regione partiamo ripartiamo per meglio dire dal centro da pagina 2 per parlare dei giovani e di internet bullismo sul web ecco come difendersi uno sportello del Corecom Abruzzo servirà a contrastare il fenomeno sulla rete nelle 2017 sono stati denunciati 88 casi di minacce il presidente del Corecom Abruzzo Filippo Lucci dice un progetto a tutela dei minori poi ci sono i consigli degli esperti ai genitori contro le insidie online attenti a cosa si condivide sulla rete in basso in Abruzzo il primo kit Enel parliamo di energie aziende tagli ai consumi catena del freddo più efficiente per gli impianti di Di Battista Food andiamo a vedere la prossima pagina pagina 3 verso le regionali si avvicina ormai l'appuntamento con le urne del 10 febbraio i cattolici e i popolari sì all'appello di Legnini ecco la lista centristi per l'Europa il candidato dice condividiamo valori importanti e avanti Abruzzo scioglie le riserve Toto D'Ambrosio e De Santis nella coalizione e intanto il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Legnini replica a Marsilio e dice siamo il contrario della paura è proprio Marsilio l'esponente del centro-destra punta su giovani e ricerca i nostri ragazzi dice sono il futuro dell'Abruzzo verso il voto decisione nella notte ne sapremo qualcosa in più nella giornata di oggi Gerosolimo ex assessore uscente per meglio dire della giunta D'Alfonso Prima e Lolli ora dice saremo compatti riunione fiume sulle alleanze e dunque Gerosolimo Andrea Gerosolimo consigliere regionale uscente di Abruzzo Civico deciderà se appoggiare il candidato di centro-sinistra o il candidato di centro-destra parliamo di lavoro di tutela dei lavoratori in particolare di sicurezza 10 milioni alle piccole imprese avviso INAIL per la riduzione del rischio di incidenti e per la salute dei dipendenti le domande a partire dall'11 aprile parliamo anche di mutui in Abruzzo preferiti quelli a tasso fisso e poi un simposio nazionale sugli spumanti a Pescara ci sarà il 18 e il 19 di gennaio al Museo delle Genti parliamo anche di trasporti da Pescara a Milano in tre ore e mezza con il treno Trenitalia e Feder Consumatori obiettivo possibile razionalizzando le fermate vediamo anche la prossima pagina apriamo con le cronache dalle nostre province siamo a Pescara donati gli organi di Corrad il papà in nome della sua bontà prelevati cuore fegato pancreas reni e corne delle 21enne che era accaduto era precipitato dal balcone di un'abitazione di città Sant'Angelo la notte di Capodanno la famiglia sognava di aprire un bar era premuroso e si preoccupava di tutti oggi alle 15 ci saranno i funerali andiamo a vedere la prossima pagina cambiando argomento si parla di sicurezza in città a Pescara l'area di risulta ora è più sicura con le guardie giurate armate tre postazioni attive tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte venerdì e sabato nel weekend fino alle 3 del mattino dunque le aree di risulta saranno presidiate anche dalla vigilanza privata da dei vigilantes che opereranno in questi da lunedì prossimo in giorni e orari prestabiliti se ne è parlato ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a palazzo di città a Pescara possiamo andare a vedere dunque in questo caso il servizio proprio per presentare questo nuovo progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale partirà tra pochi giorni la vigilanza nelle aree di risulta della stazione di Pescara un progetto che come partito democratico anche oltre che come amministrazione comunale avevate fortemente voluto sì abbiamo fatto questa proposta innovativa perché sono pochi i comuni d'Italia che l'hanno sperimentata e nel comune di Pescara nessuno l'aveva mai proposta di avviare quindi un progetto un'azione di vigilanza soft nelle aree di risulta in particolar modo nei tre parcheggi delle aree di risulta che funzionerà e sperimentalmente per 21 giorni quindi avviandosi lunedì 14 gennaio arriverà presumibilmente alla prima settimana di febbraio per appunto garantire una maggiore serenità a quanti utilizzano i tre parcheggi delle aree di risulta che sono il parcheggio del bingo il parcheggio diciamo a retrostante il terminal e il parcheggio principale da cui si accede da via Pisa e via Teramo servizio di vigilanza che è stato affidato ad una società privata sì il servizio di vigilanza è affidato ad una società privata a professionisti del settore che opereranno di concerto con le forze dell'ordine e con la prefettura perché noi non vogliamo sostituirci a nessuno anzi vogliamo collaborare con le forze dell'ordine e aiutarle ancora di più nel loro compito di salvaguardia della tranquillità e della serenità dei cittadini pescaresi e non perché a Pescara non ci sono emergenze fortunatamente ma ci sono delle piccole problematicità che vanno risolte che come amministrazione vogliamo risolvere il servizio andrà avanti comunque dalle 17 tutti i giorni dalle 17 fino a mezzanotte nei giorni di venerdì e sabato anche per venire incontro alle necessità di una clientela dei parcheggi magari più giovane che frequenta i locali del centro verrà posticipato fino alle 3 quindi il venerdì e il sabato dalle 17 alle 3 parlano anche i commercianti dopo la decisione di aumentare la vigilanza nelle aree di risulta Marina Dolci dell'associazione Viviamo Pescara favorevole a questo progetto dice l'aspettavamo già dal periodo natalizio intanto piove dentro la stazione centrale di Pescara andiamo a vedere la prossima pagina l'inchiesta su Rigopiano onorati il giorno prima strada transitabile il comandante della polizia provinciale ieri davanti ai PM con i miei 5 uomini ha detto ho lavorato al meglio fin dove possibile morta dopo le violenze sistematiche del compagno il tribunale del riesame conferma il carcere per Cerciu libertà negata al romeno in carcere da novembre per i giudici aquilani l'uomo potrebbe ripetere atti violenti e lesivi su altre persone in caso di contrasti in basso torniamo a parlare di politica l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco incalza il partito democratico e dice ditemi semi candidate e che Comancini pronto per le regionali domenica alle 11 al museo Colonna presenterà la sua candidatura alle regionali con una delle tre liste civiche che sostengono Giovanni Legnini andiamo avanti sul bus tra furbetti e disagi problemi per l'acquisto dei biglietti degli autobus a Pescara in viaggio sulla linea 5 il record della passeggera che ha presentato sei esposti mezzi vetusti e senza pedane per disabili due ragazzi sempre senza biglietto e biglietti proprio per l'acquisto dei biglietti il nuovo modello della distribuzione contestato dagli edicolanti che sono furiosi gli incassi dicono stanno crollando al Belisario parliamo di tempo indirettamente termosifoni accesi dopo la protesta degli studenti per il freddo impianti in azione dalle 4 del mattino e intanto emergenza risolta nelle case di via Matese a Pescara dove è tornata l'acqua andiamo avanti parliamo di dragaggio del porto di Pescara dopo la nuova emergenza dragaggio d'urgenza nel porto 10 giorni per l'inizio dei lavori l'iter per avviare l'intervento è stato definito ieri nel corso di una riunione con la marineria Scordella chiediamo che tutto si risolva subito e che la draga possa tornare per altre emergenze a tal proposito ieri vi avevamo fornito nel corso dei nostri Tg un ampio servizio sul riunione che si è tenuta ieri in prefettura e parliamo ora invece di aeroporto aeroporto d'Abruzzo di Pescara nuovi gate per partenze più rapide dello scalo abruzzese inaugurati due nuovi spazi dedicati ai passeggeri in attesa di imbarcarsi ieri abbiamo presenziato proprio all'inaugurazione dei nuovi gate dell'aeroporto di Pescara andiamo a vedere il servizio un nuovo salto di qualità per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara nuovi gate ma anche altri progetti sì sì abbiamo oggi abbiamo finito i lavori principali al 99,9% arrivando a 5 gate è uno spettacolo questo aeroporto è davvero internazionale bellissimo tutto moderno nastri spazi commerciali oggi è veramente un'altra cosa però comincia un nuovo step una nuova stagione quella dei 18 milioni stanziali della regione per i lavori sulla pista pista intercontinentale definitivamente lavori esterni partiremo fra un paio di mesi stiamo aspettando correttamente che la regione espleti la sua vicenda elettorale e siamo pronti abbiamo dimostrato che in 4-5 mesi si possono fare lavori di due anni lo staff dell'aeroporto ce l'ha messa tutta la ditta l'ENAC abbiamo fatto un piccolo miracolo pensate che abbiamo chiuso a 666.000 quasi 900 passeggeri adesso non mi ricordo circa 667.000 quando prima che arriva Sion andate via due compagnie Witzer e Mistral e quindi si prevedeva un normale saldo negativo di 35.000 passeggeri in meno dell'anno scorso li abbiamo recuperati tutti in 7 mesi abbiamo qualche passeggero in più dell'anno scorso e un aeroporto nuovo la regione ha fatto una scelta molto importante ha investito sull'aeroporto in modo da renderlo quindi ha stanziato più fondi ma sulla parte degli investimenti non sulla parte delle cosiddette spese correnti e allo stesso tempo è riuscita a far crescere a far decollare diciamo sì l'aeroporto d'Abruzzo e oggi è un aeroporto che si regge per quanto riguarda le sue spese correnti con un minimo sostegno è di gran lunga l'aeroporto che rispetto ad altri di pare grandezza è assolutamente più solido restiamo a Pescara il commercio che resiste bar, hotel, officine, stabilimenti balneari ecco le attività storiche premiate dal comune di Pescara per i 35 anni di attività per anno tra l'altro queste attività sono attività davvero importanti in città e dunque c'è stato questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale e vedete di fianco l'articolo proprio l'elenco delle 30 attività premiate dal comune di Pescara con almeno lo dicevamo 35 anni di attività continuativa in città siamo a Montesilvano autovelox in galleria e solo psicosi da multa sui social la falsa notizia di un nuovo impianto di controllo della velocità l'ANAS però dice non escludiamo il ricorso alla tecnologia per scoraggiare le infrazioni siamo a Montesilvano tre commissioni in una settimana la rivincita di Orsini meno spese in comune e sabato in via Vestina per quanto riguarda gli scrutatori delle prossime elezioni ci sarà il sorteggio pubblico del Movimento 5 Stelle e poi presto i lavori antiallaggamento in via Torrente Piomba in via dei Volci lo dice l'assessore comunale di Montesilvano Walter Cozzi proseguiamo siamo ancora a Montesilvano la cronaca si accascia in strada e muore a 48 anni è accaduto ieri sera in Corso Umberto proprio a Montesilvano l'uomo un pescarese è stato soccorso dal 118 ma non si è ripreso oggi gli accertamenti per capire le cause del decesso ma è quasi certo che si sia trattato a questo punto di un malore ancora a Montesilvano nasce in via Fosso Foreste un campo di street basket da Montesilvano ci spostiamo a Pianella due progetti scolastici finanziati con 135 mila euro in basso a Spoltore la quinta elementare si ritrova dopo 50 anni mentre a città Sant'Angelo organizzata una gita in Umbria per gli anziani del paese ancora nel Pescarese nell'area metropolitana in questo caso però a Francavilla dunque in provincia di Chieti i crabinieri riconsegnano lo spadino della Madonna trafugato dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a maggio e recuperata a Rimini la reliquia è tornata nelle mani del parroco Masciarelli e dell'arcivescovo della diocesi di Vasto Chieti Monsignor Bruno Forte restando a Francavilla vertice sulla sicurezza per la partita di domani domani si giocheranno in anticipo diverse gare del campionato di Serie D e c'è ovviamente massima allerta in questo caso per la partita che si giocherà alle 14 al Valle Anzucca tra Francavilla e Campobasso partita ritenuta per certi versi a rischio ci sarà un rinforzo con una maggiore presenza di forze dell'ordine proprio per vigilare sul corretto svolgimento della gara tra i giallorossi e la formazione molisana che sarà seguita da alcuni tifosi a Francavilla in basso andiamo a San Giovanni Teatino premiato il presepe più bello mentre a Cepagatti selezione degli scrutatori tra le persone in stato di necessità andiamo in provincia di Pescara in questo caso nell'area Vestina Penne Neve in provincia chiudono le scuole ordinanza dei sindaci da Città Sant'Angelo a Penne in Val Pescara attività didattica sospesa a Letto Manoppello a Penne Famiglia Amica approvato il progetto di affido familiare e poi Bussi sul Tirino bonifica di Bussi nuova diffida al Ministro in basso tocco da Casauri a scacchi a scuola grazie ad un progetto con l'Avis l'iniziativa promossa dall'Associazione dei Donatori di Sangue per sensibilizzare i più giovani siamo alla pagina di Chieti del centro veleni nell'area nella zona industriale allarme tra le case pericolo esalazioni e poi in basso la cronaca droga per la movida chieste maxi condanne proseguiamo verso le regionali ultimo giorno di trattative nel PD la spunta Marzoli il consigliere batte la concorrenza interna in corsa dice per spirito di servizio e con Fratelli d'Italia spunta scalera la Presidente Lions accetta l'invito di Tavani diciamo 5 passi per la regione ecco chi è il candidato grillino che correrà con la candidata Presidente Sara Marcozzi militante dal 2012 dice sì al cambiamento in basso concorso di bellezza Chieti Beatrice lei la miss più simpatica d'Italia proseguiamo siamo a San Salvo morì nello schianto due borse di studio per ricordare Emiliana iniziativa in memoria della 23enne deceduta a Milano nel corso di studi dell'Università Cattolica dove era iscritta ci spostiamo a centro pagina Lanciano palpeggia la dipendente un anno e otto mesi per un uomo che è stato condannato dal Tribunale Frentano in basso una vastese per le sceneggiature di Ryan Mediaset Federica Felice nella Indigo Film siamo a Teramo parliamo di turismo turismo in bianco il caso di dire perché la società Siget si ritira Prati di Tivo salta la stagione invernale Di Lodovico dice non ci sono le condizioni per andare avanti si cerca un'alternativa per evitare la chiusura degli impianti senza riapertura si rischia il tracollo lo dice il sindaco di Pietracamela Michele Petraccia preoccupato per la ricaduta economica sugli operatori turistici della regione dunque si sta cercando in tutti i modi di davvero far ripartire la stagione ed evitare il tracollo economico per gli operatori turistici della zona siamo a Tortoreto la finanza torna in comune acquisiti atti sui contributi pubblici alle associazioni dopo la presentazione di un esposto su presunte irregolarità andiamo al centro pagina a Tortoreto a fuoco un'auto in un garage a Silvi si incendia una vecchia vertura e ricoverato all'oasi di Tortoreto il Daino trovato a San Benedetto del Tronto restiamo in provincia di Teramo siamo ad Atri il sindaco scrive alla tua fermate dei bus da riparare Atri Ferretti chiede interventi per ripristinare le pensiline e affiggere gli orari Pineto via i corsi del PROS per formare volontari ad Atri anche lo Zoli alla notte del liceo classico ci spostiamo a Silvi attacchi infondati a Scordella il coordinatore della Lega difende il sindaco e accusa Movimento 5 Stelle e PD proseguiamo pagina dell'Aquila sempre dal centro il caso dell'ospedale San Salvatore anziana morta sospetto di mucca pazza al vaglio dei medici le cause del decesso di un ottantenne eseguita l'autopsia ma gli esiti si conosceranno tra mesi è ordinata dal sindaco la macellazione di una dozzina di ovini affetti da scrapie Santini nuova direttrice sanitaria della ASL subentra la dottoressa Colizza a fine mandato resterà in carica per i prossimi tre anni centro prenotazioni ancora file disagi il manager tordera di servizi per anomalie informatiche ora risolte fuori uso l'ascensore siamo nella Marsi Cacelano straniero assediato nel bar via al processo e poi Avezzano docente rapinata trentenne nei guai San Benedetto di Marsi vende droga ai giovani arrestato operaio 33enne in basso ad Avezzano pane per l'Africa la ricetta di franciosi tre religiosi a lezione dallo chef per esportare l'arte bianca in Ruanda progetto con il vescovo Santoro andiamo avanti siamo nell'area Peligna in Val Peligna a Pratola per la precisione gelosia morbosa sfonda la porta in casa dell'ex arrestato e poi testate alla fidanzata accusata di tradirlo operaio giudizio per lesioni e minacce scanno in cerca di maestre per riscoprire il tombolo tradizioni da rinverdire in questo caso bando del comune in basso Castel di Sangro mondiale di tennis studenti gare a giugno nel centro federale arriveranno 500 atleti e accompagnatori in rappresentanza di 15 nazioni siamo arrivati allo sport ma dobbiamo fermarci per qualche attimo poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di mattino 6 eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine interne del quotidiano la città due nuovi gate per l'aeroporto d'Abruzzo la saga punta a migliorare i numeri arrivando al milione di passeggeri annui per diventare scalo internazionale abbiamo visto prima il servizio parliamo anche di natura cresce il numero di camosci nel parco nazionale d'Abruzzo in basso Alexian Spinelli si schiera a fianco di Bagnoni il docente musicista rom si rivolge al ministro Salvini sulla questione migranti e poi trasporti anche sul quotidiano Terramano ritroviamo la notizia dell'incontro fra Trenitalia e Feder Consumatori per lo sviluppo della direttrice adriatica e per ridurre i tempi di percorrenza e i collegamenti tra Pescara e Milano maltempo scuole chiuse a Teramo e nell'entroterra sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado a causa scusate della nevicata di ieri una nevicata moderata che però ha creato dei problemi non tanto nel capoluogo aprutino quanto nell'entroterra parliamo di politica ultimi ritocchi alla lista Mariani il capogruppo regionale del PD correrà in una delle liste civiche di Legnini andiamo poi più in basso niente lezioni di democrazia da chi dà spallate nel Movimento 5 Stelle il segretario regionale del Partito Democratico Renzo Di Sabatino critica la Marcozzi per il paracadute su chieti e dunque polemiche come normale in questo periodo elettorale tra i vari partiti e le varie coalizioni quattro domande sulla sicurezza dell'acqua siamo sempre a Teramo in provincia il presidente infatti della provincia di Teramo di Buonaventura scrive al governo per la situazione dell'autostrada e dei laboratori vediamo la prossima pagina ieri l'addio a Tarquini magistrato di altri tempi giudice serio e rigoroso da studioso è stato un antesignano delle teorie del sovranismo economico andiamo avanti addio al presidentissimo Francesco Lombardi siamo sempre a Teramo questa mattina alle 11 in cattedrale l'ultimo saluto allo storico commerciante ex presidente del Teramo Calcio non solo ragionieri ma creatori d'impresa l'istituto superiore Pascal Comiforte all'open day di domani presenta l'obiettivo formativo dell'imprenditorialità vediamo poi la prossima pagina che riguarda la provincia di Teramo arriva la doccia gelata per i prati di tivo la Siget rinuncia alla gestione della seggiovia una settimana dall'apertura per l'aumento dei costi ma noi ci fermiamo per qualche attimo andiamo a vedere un servizio facciamo un passo indietro sulla questione acqua e dunque vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione teramana dura presa di posizione del presidente della provincia di Teramo Diego Di Bonaventura sulla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso per Di Bonaventura i cittadini teramani hanno vissuto 15 anni di incertezze vittime di un sistema inefficiente e costoso che ha leso gli interessi dell'intera popolazione e della stessa Ruzzoreti e così il presidente della provincia è passato dalle parole ai fatti inviando una nota ufficiale ai ministeri competenti all'istituto di fisica nucleare alle regioni Abruzzo e Lazio agli enti locali alla Ruzzo a tutti gli organismi coinvolti rispetto al tema della sicurezza dell'acquifero e per conoscenza anche alla procura della Repubblica nella nota si sollevano quattro questioni ineludibili Di Bonaventura chiede come prima cosa di sapere se nel piano economico finanziario per le autostrade a 24 e a 25 di circa 3 miliardi di euro siano previsti capitoli di spesa per la protezione degli acquedotti e dell'acquifero la seconda domanda riguarda l'istituto nazionale di fisica nucleare per conoscere se l'ente abbia prodotto il piano per l'allontanamento delle sostanze pericolose il presidente chiede anche se il governo ha previsto o prevede un intervento finanziario per la messa in sicurezza dei laboratori e infine pone la questione dei 100 litri d'acqua che vengono messi a scarico per evitare fonti di inquinamento per Di Bonaventura o si risolve quest'ultimo problema o deve essere previsto un ristoro visto che il costo dell'acqua persa oggi finisce in bolletta ed è pagata dei cittadini la provincia di Teramo conclude la nota del presidente è storicamente impegnata in battaglie di salvaguardia di un patrimonio ineguagliabile e segue con grande preoccupazione quanto sta accadendo promette inoltre di difendere gli interessi dei cittadini e del territorio e anche quelli della Ruzzoreti che finisce di essere parte l'ESA in un sistema dove non può determinare elementi fondamentali proseguiamo con la lettura delle pagine del quotidiano la città pagina 13 Agostinelli ufficializza la corsa da sindaco vedete il titolo di apertura Campi il consigliere provinciale lancia la sfida con largo anticipo continuità dice con la giunta uscente sindacale salvi posti di lavoro della inerti ferretti sempre a Campi siamo ora in Val Vibrata Tortoreto autodistrutta e fondaco inagibile per l'incendio nel box auto e poi ancora Tortoreto lo stadio riaprirà entro settembre tra le opere in arrivo anche la sistemazione della strada Fontanelle in basso Corropoli De Annuntis ufficializza la candidatura alle regionali il sindaco prova a seguire le orme del padre tenta la scalata a Palazzo dell'emiciclo e poi in Val Vibrata ancora spazzatura lungo le strade della zona nord dunque della provincia di Teramo proseguiamo siamo ora a Giulianova Nausicaa Cameli tiene tutti sulle spine il vice sindaco uscente non scioglie le riserve sull'invito del centrodestra per le elezioni comunali ancora Giulianova appello per la festa della Madonna dello splendore il comitato organizzatore chiede un piccolo contributo a tutti i cittadini Galantini a Napoli per il libro su Giuseppe Acquaviva domani mattina la presentazione del volume dello storico e collega nostro collega di Giulianova siamo nel litorale di Teramo le pagine del litorale Teramano Pineto domenica torna la tradizionale fiera di Sant'Agnese poi Roseto acceso accesso troppo stretto per arrivare a Roseto il sindaco chiede alla provincia di intervenire sulle ponte di Fosso Canale ancora Roseto pista ciclabile ancora senza collaudo senza rendicontazione operativa Andrea Di Stanislao di azione politica torna a fare le pulce al progetto già finito al centro delle polemiche ancora Roseto le regionali dividono Di Marco e Pavone il primo ufficializza la candidatura nelle liste a sostegno di Legnini il secondo resta tra i possibili candidati di Marsilio Silvi autocammina da sola contro mano e prende fuoco in via Rossi in basso Atri spettacolo al teatro comunale per la notte del classico anche il liceo ducale partecipa all'iniziativa nazionale con una serata divertente e piacevole siamo le pagine della cultura quelle case così poco domestiche architettura ed abitare la pietra Sozzas e Graziani nella mostra di Mastrigli e poi Sinfonica Abruzzese Citarella e Bellini varano la nuova stagione lasciamo le pagine del quotidiano la città andiamo a vedere invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero ripartiamo da pagina 2 dall'Abruzzo alle urne da Dincecco a Gallerati ecco i popolari candidati con Legnini i centristi per l'Europa la terza lista della coalizione tra gli ispiratori Licio Di Biase e l'ex DC Alfonso D'Alfonso PD tra i big in campo Paolucci Cuzzi Di Pangrazio e Pepe e poi in basso vedete Gerosolimo e Olivieri divorziano da Marsilio arriva intanto Tajani lasciamo questa pagina che riguarda le elezioni regionali siamo alle cronache dalle province Pescara Feniello condannato sdegno dei social like commenti a quota 10.000 la solidarietà della rete per la multa al padre che ha portato i fiori al figlio morto si muove la politica faremo una colletta dice Marsilio per acerbo è inaccettabile che sia lui il primo colpevole c'è anche un precedente Matrone denunciato per l'irruzione in prefettura e poi l'inchiesta proprio sulla tragedia di Rigopiano onorati il comandante della polizia provinciale ieri dinanzi ai PM la polizia provinciale non ha più compiti di protezione civile ha spiegato il comandante medicina del lavoro mazzette sulle ispezioni in aula il medico dell'ASL accusato di aver costretto le aziende a rivolgersi ad una società di cui era consulente shopping e movita più sicuri vigilantes nell'area di risulta abbiamo visto prima il servizio Corrad eseguiti prelievi di organi sette pazienti ritrovano la speranza oggi i funerali a Pescara del ragazzo precipitato il giorno di Capodanno da un balcone dragaggio in dieci giorni impegno di lolli per il porto di Pescara ieri vertice in prefettura Nuovi Gate l'aeroporto punta al milione di passeggeri abbiamo visto prima il servizio bussi parte la bonifica di Tremonti a 12 anni dalla scoperta dei siti inquinati uno studio preliminare del via al risanamento della prima discarica Montesilvano trovato morto in strada il freddo o l'abuso di alcol tra le ipotesi appalti e tangenti visita medica per l'imputato che diserta l'udienza andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta all'Aquila Asle nominato il nuovo direttore tordera verso una mini proroga e poi 5 stelle voto online cancella gli aquilani università la canzone di Gallucci rivive in un quadro il ricordo ieri all'Aquila e poi tribunale indetta la gara per il bar e poi appile imprenditore trovato morto verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso aspettando l'influenza boom di vaccini somministrazione in netto aumento rispetto allo scorso anno nel 2018 le dosi iniettate sono state 41.583 2.600 in più del 2017 e poi call center customer 2 sindacati all'attacco e poi serata con disco e party domani musica classica in provincia dell'Aquila e poi Sant'Agnese si parte nel segno del dialetto non toccate la sanità marsicana una lettera aperta della titolare della casa di cura di Lorenzo in risposta al primario del reparto di chirurgia Pierluigi Di Stefano e poi Avezzano droga e furti due arresti nella marsica Roccaraso slalom per celebrare Calisto del Castello in basso Sulmona massacrò l'ex compagna 52enne rinviato a giudizio ancora Sulmona precari del Cogesa l'allarme della CGL poi Celano per assedio al bar tutti dinanzi al giudice Avezzano liceo musicale Berardinetti si discolpa e replica siamo la pagina di Chieti del messaggero spaccio nei locali della Movida l'accusa chiede tre condanne e poi teatro dialettale musica e la lunga notte del Vico fine settimana in città colmo di eventi appuntamenti serata anni 80 allo Stantish maltempo tante scuole chiuse in provincia e anche a Chieti siamo la pagina della provincia di Chieti in questo caso lanciano mani sui seni condannato settantenne e poi le spine casso cinghiali le associazioni chiamano la regione andiamo poi a Vasto auto polizia municipale altri sette agenti abilitati ci spostiamo nella parte bassa della pagina il prefetto rinforzi per Vasto e San Salvo sul fronte della sicurezza lo ha detto il prefetto di Chieti Giacomo Barbato lanciano debiti per la droga operaio minacciato ortona case popolari il via alla riqualificazione infine San Salvo si ribalta sulla frana donna finisce in ospedale siamo la pagina di Teramo pioggia di ricorse al tar per le case terremotate questo è il titolo di apertura altri cittadini contestano le schede Aedes non rispecchiano la gravità dei danni alloggi ai nuovi sfollati e risarcimenti il compito potrebbe passare al comune la provincia si rivolge ai ministri la verità sull'acqua una lettera inviata dal presidente della provincia di Teramo Diego di Bonaventura ai ministri dunque al governo ma al tempo nevica il sindaco anche a Teramo chiude le scuole Prati di Tivo salta la gestione degli impianti e poi cronaca giudiziaria esplosione del metanodotto il processo riparte da zero siamo alla pagina dell'area del Teramano dell'area costiera Giulianova il comune ora diventa un bunker vietato entrare e uscire anche per motivi di servizio senza una comunicazione su intranet nel sistema Alley Giulianova ancora furto record dal cimitero rubate 32 lampade Corropoli il sindaco di Annuntis in campo per le regionali al fianco di Marsilio in basso ancora Giulianova cambierà location il mercato del giovedì bonifica ex SAIG c'è anche la Mastro Pietro Tortoreto incendiano la mini nel garage si indaga e ancora Tortoreto contributi eventi la finanza in comune siamo arrivati alle pagine dello sport ma allora andiamo per ordine partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali la gazzetta dello sport qua la mano capitano inter prove d'intesa con i cardi i guaini il Milan chiede lo scatto e intanto si rivede Conti per la gara di domani in Coppa Italia con la Sampdoria la Roma studia come blindare Zaniolo infine Olimpiade 2026 noi ci siamo oggi a Losanna il dossier di Milano Cortina il Cio deciderà a giugno Corriere dello sport la Ferrari richiama domenicali Elkan vuole affidare il ruolo di amministratore delegato all'ex team principale che ha rilanciato la Lamborghini intanto il calcio con i cardi che spacca Morito conferma banda e attacca aspetta un'offerta concreta ma ci potrebbe essere stato nelle ultime ore un riavvicinamento all'Anne come Cristiano Ronaldo il Paris Saint Germain ha già portato l'offerta 80 milioni per il giocatore del Napoli che chiede però più di 100 milioni infine Tutto Sport stop alle partite Forum a Tutto Sport con Pecoraro capo della procura FIGC e Palomba prefetto di Torino al primo B gara interrotta Di Bala tenta Marotta parliamo ovviamente di mercato e scambio Douglas Costa Pogba queste le trattative che potrebbero andare in scena nelle prossime ore lasciamo lo sport nazionale vediamo invece lo sport regionale partiamo partiamo dalle pagine del centro la prima pagina però è dedicata ancora al calcio al campionato di serie A le trattative di mercato Icardi attacca l'Inter faccia un'offerta seria e intanto Cristiano Ronaldo vedete in basso la polizia chiede l'esame del DNA svolta nelle indagini per il presunto stupro del 2009 di cui è accusato il giocatore della Juventus e a proposito di calcio giocato invece Coppa Italia da domani gli ottavi riparte la calcia alla Juventus vediamo le gare che si giocheranno tra domani domenica e lunedì domani Lazio-Novara alle 15 Sampdoria-Milan alle 18 Bologna-Juventus alle 20.45 domenica 13 gennaio Torino-Fiorentina alle 15 Inter-Benevento alle 18 Napoli-Sassuolo alle 20.45 chiuderà il quadro lunedì Cagliari-Atalanta alle 17.30 Roma-Entella alle 21 e intanto in vista della gara di Supercoppa Manzukić salta la gara di Bologna ed è proprio in dubbio per la sfida con il Milan Guaio alla coscia per il giocatore croato siamo al Pescara il talento della B Melegoni Pescara in A il resto in Biancazzurro il centrocampista Gasperini aveva ragione qui si sta proprio bene dice il giocatore del Pescara che arriva dall'Atalanta intanto ci sono novità di mercato in casa Biancazzurra perché è praticamente fatta Andrea Palazzi saluta e va al Monza la mezzala passa al club di Berlusconi il Cagliari il rompe su Brugman vediamo anche il calcio di serie C di Matteo Teramo nel giro di tre anni in B nuovo socio al 20% non sono venuto per perdere tempo intanto preso Sparacello Zenuni alla Virtus Francavilla scambio ormai ufficiale tra i due giocatori e poi calcio di serie D l'intervista all'ex tecnico del Francavilla Pierluigi Iervese che fa le carte proprio al campionato vasto ora il passo da playoff bene il San Nicolò Notaresco eccellenza il penne balza al terzo posto sostituzione sbagliata di un under il giudice annulla il successo dell'alba e dà i tre punti ai vestini parliamo anche del Lanciano Verna a Lanciano tra i dilettanti l'imperativo e vincere nella capolista del girone B di promozione si sta mettendo in luce il centrocampista di San Teusanio fratello di Luca che gioca in Serie C nel Pisa sci alpino e di fondo che stagione presentato il calendario abruzzese 2019 andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero e poi chiuderemo con il quotidiano la città l'Empoli piomba su Mancuso gol i toscani vorrebbero subito il bomber Biancazzurro in Serie A il Pescara non lo cede Sebastiani a Milano con Bocchetti direttore sportivo del Fano Rossi Tuminello Oscamacca i rinforzi e poi la grinta di Balzano Centenario Biancazzurro davvero positiva fino a questo momento la stagione dell'ex giocatore di Cesena e Cagliari in basso parliamo di basket Roseto aspetta un Mantua rivoluzionato in campionato parliamo di Serie C Di Matteo nascerà un Teramo più forte si presenta il nuovo azionista che diventerà il prossimo amministratore delegato Campitelli dice altri ingressi mercato è arrivato sparacello dalla Virtus Francavilla vediamo anche il calcio di Serie T Avezzano Falù Sam e Bruni subito in campo padrono d'Alessandro ora ci manca un centrocampista dunque i tre nuovi arrivati pronti a debuttare già nella prossima gara di campionato e intanto Lavastese alla ricerca del terzo successo di fila con i ragazzi di Montani che domenica giocheranno sul campo di San Mauro Pascoli con la San Maurese parliamo anche di volley nella parte bassa della pagina volley di Serie A2 maschile si ecco sospiro di sollievo Dolfo non si è fratturato dunque meno grave del previsto l'infortunio del forte giocatore ortonese e chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano la città ecco quella che riguarda il teramo Di Matteo nuovo amministratore delegato del teramo con il 20% presentato ieri il nuovo socio che avrà una carica di rilievo Di Matteo si è presentato ai giornalisti e ha detto l'obiettivo è tornare a vincere in basso parliamo di pattinaggio FIRS serata di gala per premiare i campioni abruzzesi il prossimo 19 gennaio a teramo saranno consegnati riconoscimenti per la stagione sportiva 2017-2018 c'è anche una notizia che riguarda il basket di serie a 2 maschile perché la gara tra Hertz Cagliari e Roseto in programma domenica 20 gennaio e valevoli per il secondo turno di regular season del campionato maschile di serie a 2 si giocherà alle 12 e 30 rispetto all'orario iniziale previsto per le 18 decisione presa dagli organi competenti data la concomitanza alle 18 del match di calcio di serie a tra Cagliari ed Empoli e vista la stretta vicinanza tra il palazzetto dello sport e l'arena stadium di Cagliari e dunque noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 la nostra rassegna stampa che tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio in regia Loris Bennato e Claudio Di Giacomo ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento per quanto concerne l'informazione della nostra rete alle 14 per la prima edizione del TG6 buona giornata e vi do appuntamento